Numero 5. Se volete acquistare un prodotto di qualità ad un costo davvero competitivo, vi presentiamo le tende a due pannelli del marchio H Versailtex. Misurando 167 cm di larghezza, per 137 cm di altezza, con le quali si ha la garanzia di coprire gli spazi interno della vostra casa. Viene fornito con 10 occhielli di 5,8 cm di diametro su ogni testata, che si adattano perfettamente alla larghezza di qualsiasi tubo standard. La sua microfibra mantiene la temperatura ideale nelle stanze, indipendentemente dal fatto che fuori faccia caldo o freddo. Può essere stirato e lavato in lavatrice. Numero 4. Kinglo propone una tenda a pannello singolo con tessuto in poliestere e una bassa densità di 221 g al metro quadro e 12 anelli metallici in modo da poterli far scorrere perfettamente dall'interno. Disegnati in un elegante tono nero e anche marrone, sono in grado di fornire una fresca tonalità nonostante la loro leggerezza. È traspirante ed eco-compatibile, in quanto vi darà protezione per l'ambiente e una vita a basse emissioni di carbonio. Può essere perfettamente lavato in una macchina con acqua a circa 30 gradi. Numero 3. Questa tenda oscurante e termica, viene fornita in una confezione di due pannelli con misure variabili a seconda delle vostre necessità, garantiscono un isolamento del 99% dai dannosi raggi uva che penetrano nel vostro ufficio o nella vostra casa. Sono realizzate con una morbida microfibra termica, che mantiene l'ambiente ad una temperatura confortevole, sia d'estate che d'inverno. Ha 10 occhielli in modo che il sistema scorrevole scivoli senza problemi. Sono lavabili in lavatrice. Numero 2. Top Fine il propone delle tende per finestre, ideali per oscurare i vostri spazi quando la stagione estiva è arrivata, attirando la freschezza desiderata. Sia i materiali di fabbricazione che la tecnica del tessuto permettono anche il passaggio della luce perfetta per la cucina, la camera da letto o il soggiorno, oltre ad essere resistenti al lavaggio in lavatrice con un ciclo delicato. Numero 1. Con le tende oscuranti Deconavo, potete stare sicuri di ottenere un prodotto di buona qualità per la vostra casa. Non solo per il loro delicato colore e la loro morbidezza, ma anche per la loro tecnica di lavorazione del poliestere sono davvero in grado di garantire un isolamento termico con la tecnica del sandwich, bloccando la maggior parte della luce esterna e regalandovi un sonno senza essere disturbati dalla luce. Il suo design è composto da un pannello con 8 occhielli d'argento e la qualità del materiale contrasta l'aspetto dei fastidiosi acari. Sono ideali per i lavoratori notturni, che hanno bisogno di recuperare il sonno durante il giorno.